Eccoci di nuovo qua con il solito update su Bitcoin, ho voluto aspettare anche perché siamo in ballo su dei trade abbastanza importanti perché comunque qui la situazione sembra in ripresa e quindi ho voluto un attimino aspettare ad esempio questa candela di rilassamento long visto che praticamente su Telegram siamo entrati di nuovo in una valanga di altcoin, sono rientrato long pesante qua e ho chiuso tutti gli short, quindi con lo short abbiamo fatto il disastro perché abbiamo fatto varie piramidazioni da qui poi ho fatto un'altra piramidazione qua, ho preso gran parte del profitto proprio sullo spike perché avevo detto qui mi deve chiudere in efficienza ho aspettato fino all'ultimo e poi quando ripartito qua ho riaperto un long che era sostanzialmente della stessa importo dello short ancora lasciato in essere perché ero ancora insomma indeciso sulla situazione quando mi ha fatto questo retest qui diciamo questo ritracciamento ho detto vabbè adesso chiudo lo short e sono totalmente long quindi la situazione è che devo stare un po' allerta devo stare un po' allerta perché non ho più lo short di copertura che diciamo ritenevo abbastanza inutile in questo momento cioè inutile insomma poi vedremo però bisogna fare pur delle scelte nella vita e quindi adesso qua bisogna stare sul pezzissimo allora vediamo un attimino la situazione anche perché cosa sta succedendo allora velocemente poi farò anche un video anche sul DXY, sui mercati generali lo faccio perché cioè è tanto venuti a dire che cosa sono tutti un po' correlati ciò correlato è il fatto che il DXY ha fatto questo top sul 107 e non è riuscito a passare diciamo tra virgolette per fortuna per ora perché passare qua sopra è un disastro però lo vediamo sul DXY comunque siamo alla merce anche del dollaro ovviamente bitcoin si sta comportando in maniera egregia fortissimo qui ho messo tutte le frecce dei potenziali chiusure dei giornalieri poi qui ovviamente qui c'è confusione però si vede ad occhio senza stare lì col mirino a dire questo è un giorno top questo non è un top allora qui c'è stata un primo diciamo pseudo tentativo di accumulazione poi questo è sicuro un'accumulazione invece si sta creando un testa e spalle, reteste e sembra che voglia ripartire il tempo qui come settimanale è relativamente corto perché se anche li contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boh cioè diciamo questo magari è anche un giornaliero un po' sporco visto che comunque ha chiuso il giornaliero anche sul DXY si sta un po' riallineando sono relativamente pochi perché un settimanale di media dura un po' di più no, 10 giorni eccetera ma, ma attenzione, ma va allineato con quello precedente va allineato con quello precedente che infatti io qui avevo spostato solo per la divisione giornaliera di perso se allineiamo con quello precedente siamo perfetti siamo perfetti come tempi perché? perché quello precedente è durato troppo perché magari ci sono stati poi cosa succede alle volte? c'è un esempio due fine settimana in mezzo magari riaccumula un po' di più fa un po' più fatica perde qualche giorno qui qui ha perso qualche giorno in questo riaccumulo nei fatti vedete qua sotto dice un po' corto, un po' buono non lo so, non mi convince si, se prendi il settimanale singolo ma tu devi prendere tutto il movimento e partire da trimestrale se prendi tutto il movimento e partire da trimestrale siamo perfetti vedete guarda mettiamo il grafico alla linea siamo perfetti con i tempi medi questo è durato un filo di più questo sta durando un filo di meno ma siamo perfetti con la ripartenza con i settimanali diciamo lato prezzi indice ecco, ma il punto principale è che noi poi siamo in dovremmo essere in modalità tra virgolette super bullish perché ovviamente come abbiamo visto più volte noi dai settimanali inversi siamo indirittura d'arrivo abbiamo un settimanale e questo è essendo l'ultimo settimanale se deve fare l'ultimo settimanale quindi convalida il fatto che questo non è stato l'ultimo che sarebbe strano ovviamente, cioè, insomma sarebbe come tempistiche un po' troppo presto l'abbiamo già detto però non è che che tutto è sempre così perfetto quindi quando sei già a 80 giorni inizi anche a prenderti un po' paura, no? e di questo sono 80 giorni quindi trimestrale in media c'ha 90 giorni ovviamente, no? questo è trimestrale guardate ha fatto 88 giorni c'ha 90 giorni, no? quindi il punto è che 80 giorni sono comunque sufficienti e qui infatti eravamo comunque sul livello è stato ritracciato male se si apriva lo short, eccetera ma ora i tempi e anche le conformazioni sono buone per identificare il fatto che si può già ripartire e visto che se si deve ripartire deve fare l'ultimo settimanale al rialzo deve essere anche quello forte quindi non c'è tempo per perdere troppo tempo i riaccumuli e roba deve partire deve partire in fretta è subito, è veloce questa è la sostanza per andare nei target da queste parti e poi da qui si vedrà da qui si vedrà perché poi può ancora allungare nel settimanale e lo vedremo boh, vedremo, vedremo da qui si vedrà intanto ci giochiamo i tempi giusti di chiusura da queste parti sicuramente ci sono mostre di volumi cioè proprio delle mostruosità di volumi che ci daranno molto fastidio se noi prendiamo tutta questa situazione qui questo ad esempio anche se qui non l'ha diciamo tra virgolette rispettato però poi come retest si qui l'ha distrutto qui come retest non ce l'abbiamo fatta qui siamo ancora su uno dei retest non ce l'abbiamo fatta qui ancora alla fine non ce l'abbiamo fatta perché vedete questo è tutto il volume e non ce l'abbiamo fatta adesso già rompere questo è già una tanta roba no perché ritorniamo in area di top ovviamente ritorniamo in area di top è però in area di top poi qui già una volta ha rotto le valle non siamo passati qui guardate quanti volumi qui sostanzialmente se prendiamo solo l'ultima zona di distribuzione di riaccumulo la partita prendendo solo l'ultima zona è pari prendiamo qualcosa che non si è scarabocchiato così prendiamo un altro grafico di Binance Futures ecco allora qui vedete anzi su Binance Futures per dire non è neanche pari qui se prendiamo è solo l'ultima zona solo quest'ultima tente crash riaccumulo per ritornare su e siamo sotto cioè nel senso i volumi che sono qua sono inferiori se guardiamo l'ultimo diciamo movimento qui anche qui sono assolutamente inferiori guardate come hanno distribuito prendiamo questo Bitstamp vabbè inferiori Bitfinex vabbè pochi volumi è nel nostro standard qua però questo è spot quindi i spot non è che incrementano tanto gli short cioè si vendono ma è la stessa roba più o meno però quindi qual è il punto prendiamo ad esempio un Binance Future o Bybit prendiamo un Bybit per avere anche una view diversa insieme allora questo però è solo l'ultimo movimento perché è chiaro che c'è ancora qualcosa cioè qui non avendo rotto questo minimo gli investitori di lungo periodo probabilmente sono ancora dentro no quelli di lungo quelli che fanno diciamo anche magari trade di medio per carità sono ancora dentro non avendo rotto questo hanno tenuto la struttura quindi prendiamo questa struttura qua no e qui c'è praticamente sarebbe quasi tutto un malloppo di teorica distribuzione perché qui siamo in topping però se prendiamo da quando hanno iniziato a riaccumulare no qui la situazione cambia perché ovviamente guardate che volumi ci sono qua sotto no qui vincono assolutamente questi volumi questi volumi qua bisogna vedere se hanno distribuito tutto qua su evidentemente no perché sono molto più forti prendiamone un altro abbiamo Binance qua i volumi che sono qua sotto sono ancora più devastanti guardate e se vuol dire che ancora non hanno distribuito qua su teoricamente poi bisogna vedere magari anche solo l'ultima l'ultima parte perché qui magari c'è stata un altro po' di distribuzione accumulazione non si capisce bene guardate che volumi che ci sono da queste parti prendiamo il solito vediamo qua qui è quasi praticamente il nulla questo essendo spot probabilmente sono più sul bias di dove ha comprato le persone spot diciamo no e qua sotto hanno comprato l'infinito quindi ancora ancora la struttura degli investitori di lungo periodo secondo me è ancora intatta quindi al di là del vedere l'ultimo trimestrale qui che sta ancora vincendo il top vedendo diciamo la tutta questa questa visione diciamo manca ancora probabilmente il movimento visto che qui non hanno rotto che se tutta gran parte di questa gente qua avesse già venduto qui dovremmo vedere più roba quasi in linea con questi volumi qua invece a quanto pare non hanno ancora venduto quindi o hanno un obiettivo ancora di più lungo termine oppure vogliono fare un'altra mossa quello è il punto che dobbiamo sempre interpretare oppure aspettano un'altra mossa quello è il punto un'altra mossa rialzo prendiamo il nostro Bybit Futures no qui tutti quelli che hanno comprato qua giù qui hanno distribuito parecchio di più degli altri vediamo Minas qui anche qui hanno distribuito parecchio ma c'è più roba qua però come come volume in effetti qui c'è sì questo è più forte però qui comunque ne hanno iniettato tanti ordini è dura la partita è dura è dura perché poi adesso voglio vedere anche questo aspetta togliamo l'ultima parte che qui sicuramente non hanno distribuito ma hanno accumulato togliamo questa e vediamo ok e se invece mettiamo solo anche qui in questo la differenza fra quanto hanno messo qui e quanto hanno tentato di reaccumulare qui è più forte però guarda più forte qui è più forte su binance è molto più forte quello che erano tentato di reaccumulare qua quindi potrebbero anche aver trovato già con quei volumi sotto già con questi volumi sotto che poi tra l'altro magari non è che ha iniziato a reaccumulare anche da questa zona qua per carità però siamo siamo lì la partita è equilibrata mettiamola così se guardiamo in chiave proprio di potenziale tentativo di nuovo top oppure soltanto un ritracciamento qua che poi ovviamente sarebbe il classico setup da disastro perché ti fa il classico testa e spallone capito ti fa testa e spallone qua ci hanno riprovato non ci sono riusciti distribuiscono e poi si va giù per forza cancelliamo si scarabocchi ok quindi qua abbiamo visto velocemente che cosa possiamo aspettarci qui nel brevissimo intanto nel brevissimo cosa abbiamo qui è difficile un po' identificare il il giornaliero giusto eccetera perché anche per dire questo top qua qui si è allineato con il bottom del DXY e qui invece c'era confusione e qui non c'era il tempo perché qui da questo top a questo c'è solo un mezzo giornaliero inverso quindi sembrava che il top fosse a queste parti forse vincolato a rialzo però poi alla fine se guardiamo il tempo qui è stato rigettato proprio in tempistiche giuste di come se ci fosse un top qua vabbè quando la situazione è così non è che si può andare a analisi ciclica pura sul giornaliero cioè quando le situazioni sono più chiare si se no si cerca di andare insomma più o meno anche con altri metodi per dire adesso qua vediamo invece la situazione di breve situazione di breve guardate che avevo fatto vedere su telegram anche sta cosa e per questo sono tornato bullish all'improvviso è questa allora prima eravamo messi così questi sono i volumi che c'erano prima di quest'ultima parte qui avevano accumulato forte e qui hanno distribuito forte ovvio no? cioè non è che si sa che qua per forza vendono e qua per forza comprano però uno che sa fare il suo lavoro generalmente non è che compra qua solo i retail comprano qua solo chi vuole andare to the moon compra qua se ci sono tutti questi volumi qua e il prezzo è alto probabilmente vendono se qui cioè nel senso è proprio teoricamente dovrebbe essere così se qualcuno poi ha comprato qua è un coglione c'è sempre il pirla perché qualcuno dovrà pur comprare se no come farla vendere ovvio ma generalmente se vedi i volumi sotto e poi c'è il movimento sopra e poi vedi il movimento sopra e c'è il volume sotto vuol dire che qui hanno venduto e qui hanno comprato cioè anche se non vedi esattamente non sai esattamente quanto e quali però generalmente è così ecco questa è la situazione che c'era prima no poi questa è la situazione che abbiamo adesso aggiungendo i volumi qua vedete guarda che roba non è che hanno shorted di nuovo non si sa se questi sono teoricamente anche perché non abbiamo ancora fatto nessun movimento ancora rialzo ribasso non è che si può sapere 100% che siano dei riaccumuli però se uno voleva vendere ma perché non ha venduto qua o qua quando si arriva qui probabilmente tenta di ricomprare no perché deve sortare qui che poi tra l'altro siamo vicinissimi a questo livello di volume che tiene cioè cosa fai sorti poco sopra il supporto non ha senso no quindi se hanno iniziato a esserci tutti questi volumi qua la cosa inizia a puzzare che sia già un riaccumulo che stiano già ritentando la mossa adesso qui ci sono due punte quello che sta succedendo però nel breve è che probabilmente qui hanno comunque ancora tentato di shortare d'altronde ad esempio al supporto c'era ancora un bel margine quindi magari hanno piramidato qua piramidato qua piramidato qua però qui e qui hanno tentato di riaccumulare questa è quindi la piccola lotta adesso che abbiamo in questa zona qui appunto è fra questi due volumi che se mettevamo così prima ecco era centrale quindi qui sostanzialmente qui era un po' distribuito adesso quella è la realtà adesso proprio distribuito non prima ma adesso perché se prendi solo qua vedete se prendi solo questo sostanzialmente qui è molto più forte qui non c'è quasi niente quindi qui probabilmente stavano ancora più o meno vendendo ma senza tanta forza ecco qui hanno un po' riacquistato e adesso vediamo da qui e qui hanno rivenduto probabilmente perché hanno venduto qua perché comunque hanno difeso un minimo queste vendite mentre mentre il prezzo era qui sostanzialmente il DXY aveva fatto il suo rimbalzone e quindi stava ritornando la paura e quindi qua si è allungata come vendita adesso se invece io allungo quindi qui siamo insomma poco più avanti qua ma non di molto se io adesso allungo anche l'ultima sezione vediamo ecco adesso questo sopra vediamo vediamo questo questo è rimasto qui cioè forte però adesso e adesso non è comunque così forte in proporzione perché vuol dire che qui abbiamo fatto un retest hanno ricomprato e qui non stanno più vendendo secondo me bisogna interpretare anche queste cose perché alla fine ciclica non ciclica perché si guarda una ciclica perché c'è una distribuzione e un'accumulazione una distribuzione e un'accumulazione e poi in base a quanto distribuiscono quanto accumulano si vede chi è più potente dell'altro mettono dei cararmati qua sopra cioè cosa che fanno loro è come una sorta di risico loro mettono qua costruiscono la trincea cararmati cannoni sparano 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 sono i più forti rompono tutto poi quando arrivano qui hanno fatto già tot chilometri nelle nemiche e arrivano capito qui ci sono i tedeschi qui ci sono i francesi o viceversa quindi sparano 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 poi rifanno campo base eccetera eccetera come un gioco di chi mette più soldi di chi ha più potenza di fuoco questa è la sostanza e anche vedendo in questo piccolo sostanzialmente didattica quasi direi situazione di pseudo distribuzione pseudo riaccumulo pseudo tentativo poi retest proprio si nota come cambiano le situazioni no tipo qui non ci sono volumi poi qui iniziano a entrare un sacco di volumi questa è tutta un'accumulazione no guardate da qui sotto al centro c'è tutta un'accumulazione poi da qui inizia ad esserci un altro po' di più di distribuzione quindi qui vendono un altro po' e poi questa situazione qua tiene vediamo si allunga ancora di più vedete e questa invece si accorcia e quindi qui siamo probabilmente pronti per ripartire siamo pronti per ripartire che ripartire cosa significa che se rompiamo questo livello qui poi qui c'è tutta quasi in efficienza se abbiamo accumulato bene questi short qua come ho fatto io li ho già chiusi quindi qui anche questi volumi qua di short non penso ci siano granché più sostanzialmente e si va ai mostri ai mostri finali all'attacco dei mostri finali tutta questa qua cioè praticamente tutta rossa perché vedete qua che distribuzione lunga che abbiamo avuto tra l'altro una prima grossa distribuzione e una seconda distribuzione se vogliamo avere delle velleità di top si vedrà già qua cioè se qui riusciamo almeno intanto arrivare diretto qui a candela piena abbiamo tanta forza arriviamo diretto a candela piena poi magari riusciamo aggiustarcela un po' qua dentro e forse fare l'ultimo tentativo se già qui iniziamo a fare già roba del genere è finita è finita vedremo vedremo volevo fare un video corto è venuto un video longissimo come sempre per questo video vediamo sul brevissimo quindi sul brevissimo io cosa semplicemente quindi infatti abbiamo aperto il long qua e anche aperto il long su tantissimi altcoin cioè io avevo già aperto il long qua non ho preso nessun profitto perché comunque avevo lo short ancora quindi quando mi è sceso qua io non ho preso il profitto della prima gamba del long ma quando mi è sceso qua cosa ho fatto ho chiuso lo short come prendere il profitto non ho più nessun short e ho anche incrementato un pochino il long quindi ho preso non ho preso profitto della prima gamba perché comunque era della stessa size short e long no? quando è sceso qui ho chiuso lo short quindi non ho più lo short ho preso tutto il profitto che potevo dallo short preso qua su e i profitti presi dello short più o meno circa mettiamola così li ho reiniettati long e quindi se ipotesi quando ero qui ho detto chiudo ipotesi adesso non mi ricordo le size esatte dipende dallo stop loss le size ovviamente se facciamo finta io qua ero 20.000 short arrivo qui e ho detto chiudo 10.000 chiudo 10.000 da qui ho detto apro il primo long e quindi magari apro 10.000 long qui avevo 10.000 short ancora ancora dentro apro il primo 10.000 long sono praticamente uguale quando è andato qua su non ho preso profitto per il long stava ancora stava perdendo ovviamente un po' di più lo short stavo perdendo il long però qui ho la conferma del retest allora a questo punto ho chiuso diciamo 10.000 dello short e ho messo più 10.000 del long no quindi adesso sono solo long sostanzialmente ho aperto anche tante altcoin questo è il mio modo diciamo in cui gestisco anche questo genere di operazioni va bene perché qui comunque era un setup long si però poteva sbattere qui tornare giù invece qui si vede che ha fatto un bel retest si sono visti i volumi ho fatto anche le analisi grafiche sul telegram e mi sono sentito diciamo relativamente 6 fa riaprire adesso sta anche ha fatto una piccola reazione qui in quest'area di topping ma vedete non è tornato giù sta facendo nel suo piccolo i classici cap and handle che poi vanno a rompere però vediamo vediamo adesso io sono positivo però come sempre dipende anche da cosa vuol fare il dollaro e gli altri mercati che ci influenzano questo video è tutto faccio un video veloce su tutti i mercati soprattutto il dollaro e poi basta operiamo alla prossima ciao